Buongiorno, mi chiamo Alberto Vanolo e insegno geografia politica ed economica. Questa mia breve riflessione sulla globalizzazione comincia dall'opera di Claudio Rottaloria dal titolo Equatore. Claudio Rottaloria è un artista torinese e probabilmente anche lui appassionato di geografia. Questa sua opera infatti non è unica nel suo genere, perché fra il 2002 e il 2011 ha prodotto una certa quantità di equatori. Ha realizzato opere di piccola dimensione, come questa stampa digitale che coniuga fotografia e pittura, e grandi installazioni ambientali, come quella che si può vedere nel cortile del campus, quella strada superficie blu che sembra essere composta di secchielli colorati. Quell'opera si intitola Movimento dal blu del mare e anche se non porta il titolo Equatore fa parte della stessa serie di lavori nel suo catalogo. Nelle parole dell'artista il segno curvo di Equatore evoca un abbraccio, ma è anche una metafora del viaggio, il viaggio esterno e quello interiore, e l'opera si confronta con le interferenze, le discontinuità e gli squilibri del mondo contemporaneo. Il rapporto fra arte e scienze sociali è molto stretto, e forse per la geografia è particolarmente stretto. Da un lato perché molti geografi si sentono un po' artisti, e circa un secolo fa si dibatteva intorno all'idea che la geografia potesse essere considerata più una pratica artistica che non una scienza, proprio perché la descrizione di un luogo attraverso la scrittura di un testo o il disegnare una carta geografica, in molti casi non era, e in certi casi ancora non è, troppo distante dal lavoro di uno scrittore o di un pittore. Ma esiste anche un'altra dimensione. I concetti e le immagini della geografia possono essere di grande stimolo per altri campi del sapere e dell'ingegno, come appunto per il lavoro artistico. L'immaginario geografico dell'isola, o quello della montagna, del viaggio, del centro e della periferia, sono tutti esempi di contaminazioni fra concetti che sono in qualche modo geografici, anche se non sono esclusivi della geografia, e altri campi dell'ingegno. Allo stesso tempo la geografia descrive lo spazio prendendo a prestito altri concetti dalle scienze, come le scienze sociali di cui ci occupiamo in questo dipartimento. Il concetto di globalizzazione è un esempio cruciale dell'interscambio di idee e teorie tra a differenti campi del sapere. Non a caso si parla di globalization studies, prescindendo così da un preciso riferimento alla storia, alla sociologia, all'antropologia o all'economia. Ma l'immaginario della globalizzazione, mi sento di dire, ha comunque una forte radice geografica, perché si collega a quel segno curvo che descrive, letteralmente scrive, la superficie del nostro pianeta. E' impossibile stabilire quando abbia avuto inizio quella fase evolutiva della nostra società che chiamiamo globalizzazione. Il termine globalizzazione appare sostanzialmente a partire dagli anni Sessanta, grazie al contributo di autrici e autori provenienti da una piccola parte del pianeta, tendenzialmente dall'Europa del Nord America. Ma per molti storici la globalizzazione esisteva già ben prima, tanto da rendere più opportuno parlare di globalizzazioni, al plurale. Ora, guardare alle linee di continuità rispetto ai fenomeni del passato, alle loro radici lunghe, è una strategia delle scienze sociali che si oppone alla tendenza a immaginare che quello che stiamo vivendo oggi sia completamente nuovo, misterioso e inspiegabile. E in questo senso fenomeni come il commercio, le migrazioni dei popoli, le contaminazioni culturali in una parte e all'altra del mondo, come per esempio quelle linguistiche, hanno chiaramente una storia antichissima e riconoscerla ci permette di essere meno timorosi, meno sospettosi rispetto al cambiamento. Ma per certi versi la globalizzazione non è caratterizzata solo da linee di continuità rispetto al passato, ma ha anche introdotto aspetti nuovi, come l'accelerazione senza precedenti di alcune tendenze già in atto e soprattutto nuovi modi di guardare al mondo. Alcune autrici, alcuni autori, provocatoriamente, hanno tracciato a questo proposito una storia della globalizzazione che la fa riservire a tempi più recenti, sostenendo per esempio che la globalizzazione si è iniziata nel 1972, quando per la prima volta la Terra fu fotografata dallo spazio, nell'ambito della missione Apollo 8. Dire il vero esistevano già altre foto precedenti della Terra, ma quella del 1972 è stata la prima scattata da un essere umano in carne e ossa e che ritraeva l'intera superficie terrestre, pienamente illuminata dal Sole. La foto ci mostrava il punto di vista di un uomo sul mondo dall'esterno e quel piccolo puntino azzurro immerso nel buio dello spazio eravamo noi. Per la prima volta una gran quantità di persone ha preso coscienza, anche a livello emotivo, del fatto che abbiamo chiaramente un destino comune e siamo tutti abitanti di questa piccola isola blu nello spazio. Era nato l'immaginario globale. Non a caso quell'immagine divente famosissima e divenne l'emblema di molti movimenti ambientalisti che stavano acquisendo forza in quel periodo. La storia stessa di quell'immagine ci dice molto la globalizzazione, a partire dal fatto che non sappiamo neppure esattamente chi sia l'uomo che fisicamente ha scattato quella foto, perché tutti e tre i membri dell'equipaggio hanno dichiarato di essere gli autori e non ci sono documenti ufficiali perché nessuno di loro, secondo i piani di viaggio, avrebbe dovuto scattare foto in quel momento. Come per altri fenomeni culturali che prendono forma nello scenario globale, non sappiamo esattamente da dove vengano e prendono forma, spesso in modo inaspettato. Inoltre, la foto originaria era capovolta, con l'emisfero sud posto nella parte superiore dell'immagine. Le carte capovolte o sud-nord sono state spesso utilizzate da artisti e geografi per suggerire modi diversi di guardare al mondo e alle disuguaglianze. In questo caso, però, l'immagine è stata raddrizzata e ritagliata prima di diventare la foto probabilmente più riprodotta al mondo, riducendone così la carica sovversiva. Altre discipline hanno proposto altre prospettive circa la nascita della globalizzazione, alcune più o meno note. Fra le prime si può enfatizzare l'importanza della dimensione politica. Il crollo del muro di Berlino è certamente un fatto emblematico che ha cambiato l'intera nostra cosmogonia. Se un tempo si parlava di primo, secondo e terzo mondo, improvvisamente il secondo mondo era scomparso, lasciando solo due categorie geografiche. Il primo mondo, quello ricco, e il terzo mondo, quello povero. Un singolo mondo diviso in due da un confine che non è troppo dissimile dall'equatore dell'opera di Rotta Loria. Ma gli studi politici, le relazioni internazionali e l'economia hanno arricchito tantissimo la nostra comprensione di quelle relazioni. Altri studiosi e studiosi hanno battuto vie meno consolidate. Un celebre sociologo descriveva come momento emblematico della nascita della globalizzazione quello in cui, per la prima volta, fu trasmessa in contemporanea ai 90 paesi la serie tv americana Dallas, che è arrivata in Italia nel 1991. Era la prima volta che un prodotto culturale arrivava contemporaneamente nelle case di un simile numero di persone sparse su tutto il pianeta. Ma il sociologo sottolineava un aspetto cruciale, oggi ben noto, ma spesso sottovalutato ancora oggi. E cioè che uno stesso oggetto culturale, uno stesso discorso, una stessa pratica, può assumere significati molto differenti in luoghi differenti del pianeta. I vari modi in cui si guardava la sopopera, da solo o in famiglie estese, il modo in cui se ne discuteva, le diverse maniere di interpretare i buoni e cattivi, il ruolo degli uomini e delle donne, di interpretare l'opulenza di quella famiglia di petrolieri americani e di creare significato, quello che chiamiamo il discorso, intorno a questioni di politica e potere, ci diceva tantissimo sulla varietà del mondo, aprendo un immenso spazio di studio e di ricerca per le scienze sociali. Il mondo è fatto di ibridazioni e contaminazioni e non è affatto omogeneo. In questo senso la globalizzazione è una condizione dinamica di squilibrio e di differenza. L'esperienza della globalizzazione è completamente differente a seconda del corpo di chi la vive. Studiare le forme, le relazioni, le ragioni, le traiettorie, i modi di vivere e di intendere questo squilibrio e più in generale i problemi e le risorse della globalizzazione è un compito che investe chiunque si occupi di culture, politica e società. Sono sicuro in questo senso che ogni collega di questo dipartimento si occupi, in modo più o meno diretto, di globalizzazione, per esempio, e sono davvero solo pochi esempi fra i tantissimi possibili in termini di trasformazione e contaminazione delle pratiche religiose, delle dinamiche politiche, del conflitto di classe, delle pratiche di resistenza ai movimenti sociali, anch'essi sempre più organizzati in reti globali, delle forme di potere che si riproducono con il dilagare dell'ideologia neoliberalista, del ruolo sempre più perversivo delle tecnologie nel plasmare relazioni a scale differenti, o dell'emergenza di problematiche di portata planetaria, per esempio in termini ambientali o, come abbiamo visto di recente, in termini sanitari. Ma soprattutto una visione complessa della globalizzazione ci permette di riconoscere come la globalizzazione non sia una condizione finale a cui stiamo tendendo naturalmente. Non viviamo in un mondo globalizzato. La globalizzazione è piuttosto un processo politico fatto di conflitto, potere, istituzioni, trasformazioni. Lo spazio della globalizzazione è aperto, è uno spazio in divenire. Se il mondo appare straordinariamente veloce e interconnesso per il movimento di capitali e di informazioni tramite internet, non è altrettanto aperto per il movimento di persone, e bensì pieno di confini e fratture. La globalizzazione non è come la mela di Newton che cadrà inevitabilmente sempre nello stesso modo lungo la medesima traiettoria. La nostra ricerca quindi si differenzia dai scienze naturali perché può contribuire ad avere un ruolo trasformativo, descrivere i lati oscuri della globalizzazione, del capitalismo o delle tecnologie che plasmano la vita sull'intero pianeta, è un primo plasso per riflettere su cosa sia opportuno e cosa sia desiderabile. Come ci insegna un ricco filone di studi e di riflessioni sul pensiero utopico, provare a immaginare alternative è il primo passo indispensabile per liberarsi della schiavitù, del pensiero che non vi siano alternative a quello che stiamo vivendo oggi, e per riuscire davvero a vedere in questa linea curva e nei suoi spigoli un abbraccio di portata planetaria.